io da questo momento quello che succede succede ricordati che la macchina te l'ho già sempre prestata eh vabbè ma che c'entra questo mo? c'entra e come? vieni che devo riuscire e che mai da riuscire? io avevo la pensione e non volevo trovare fuoco e allora? aspetta caro non ho fermato ma non sono queste macchine non sono accorto di queste batterie a scarica e ci andavo a piedi e chi aveva assaglia e pigliava un umbrella e poi arrivava tardi e trovava la folla giusto e quindi? gentilmente Pasquale poi mi ha prestato la chiave nella macchina e l'ha fatto bene perché è un amico che sta in difficoltà bisogna aiutarlo giusto l'amicizia è l'amicizia bravo a Pasquale che ti dicevo Pasquale è che al duccio è un uomo pieno di comprensione conosce il valore dell'amicizia quindi se ho capito bene tu l'incidente non l'hai fatto con la macchina tua esatto l'hai fatto con la macchina di Pasquale ma io la tengo a tua macchina ma ti sei scordato ah già stamattina ti ho prestato la macchina a proposito ma la macchina mia dove sta? sta parcheggiata fuori e le chiami? e non le tengo io e chi le tiene? io grazie come mai le tiene tu? e quanta volta ti ho prestato la macchina mia? certo un sacco di volte ma questo che c'entra? tu non me l'avresti prestato la tua macchina? certo l'ho prestato a Pasquale perché non la dovevo prestare a te tu me va bene ecco mi vuoi bene sì bene non ci hai fatto l'incidente e la macchina non ci hai fatto niente e la macchina sono anche i piedi si accongono e i cristiani non sanno fare mai niente bravo però io ancora non ho capito quale macchina sei scassato ti hai fatto conto? la macchina del signore non c'è la macchina del giornale non c'è una batteria scarica che le Pasquale sta due meccaniche la macchina mia sta fuori e questo si avrà la macchina mia che ti ho dato io quindi? Aldo quello l'incidente la parte con la macchina nostra con le chiavi che Pasquale ha prestato a Gennaro giusto? giustissimo allora la tocchetta aveva raggiunto la macchina scammazzata che sta la fuori eh mio credo proprio di sì esatto però io non mi sono fatto niente e non sono giusto manco l'ospitalo tu no ma Pasquale sì e quando sei andato? ma insieme a te lucidamme la mano